Amici di Gizzetta, oggi ci siamo lasciati ispirare dalla ricetta delle sfogliatelle Ma abbiamo fatto una versione facilissima e altrettanto golosa Manuela ai fornelli, pronti? Via! Come prima cosa preparo la crema pasticcera Comincio versando in un pentolino il latte Aromatizzo il latte con la scorza di limone Che limonone! Mentre attendo che il latte sfiori il bollore, nell'altro pentolino a fuoco spento verso i tuorli E aggiungo lo zucchero Con una bella marisa Aggiungo anche la farina E mescolo Il latte ha sfiorato il bollore, comincio a unirlo al composto di tuorli, zucchero e farina Lo aggiungo in più volte Accendo il fornello E lascio cuocere la crema fino a farla addensare Sostituisco la marisa con una frusta Così scongiurerò la fastidiosa presenza di grumi La crema è pronta La trasferisco in una ciotola Per farla raffreddare prima Piccolo trucchetto Una bella ciotolona col ghiaccio E ce l'appoggio dentro Pronti a formare le sfogliatelle Con un bel tagliapasta Divido in sei rettangoli la mia pasta sfoglia Prima così A occhio Allora le divido Ok Ora Sempre con l'aiuto di un tagliapasta Ora pratico dei tagli Fino ad arrivare Alla metà Lasciando comunque integri i bordi Ora Spennello la superficie Col burro fuso Ora Chiudo il rettangolone Così Faccio combaciare i bordi E farcisco con la crema Al centro Metto un pochino in più Siamo tutti dei golosoni A giallo zafferano E ripiego a triangolo Poi molto delicatamente Facciamo pressione Per ottenere una sfogliatella carina Ah, io sto utilizzando Pasta sfoglia pronta Se vuoi vedere come si prepara Basta andare su giallo zafferano E cercare pasta sfoglia Ma che carina Ora Ultimo passaggio La rifinisco E l'appoggio Su teglia Con carta forno Burro fuso E zucchero a velo Vado avanti così Con tutte le altre Un'ultima spolverata Di zucchero a velo E possiamo infornare 200 gradi Modalità statica E tra 15 minuti Possiamo sfornarle O fino a che saranno Belle dorate Un'ultima spolverata Di zucchero a velo Ed ecco pronte le mie sfogliatelle Vi avevo detto che sarebbero state facili Promessa mantenuta Preparateli anche voi Fate una bella foto E taggateci su tutti i social Per qualsiasi domanda o consiglio Scriveteci pure Beh, io le assaggio per voi Ne prendo una La puccio E la sgagno Ciao ragazzi Ma ma che buone Ciao ragazzi Ciao ragazzi